Ministro Gentiloni, buon pomeriggio. Lei ha concluso il suo intervento dicendo due cose. La prima, no, noi non ci faremo trascinare in avventure sbilenche, qualcosa del genere. Trascinare da chi? Chi è oggi che ci vuole trascinare in una guerra in Libia? Poi prima ha detto assolutamente nessun intervento militare se non c'è un governo nazionale. Guardi, glielo deve dire alla sua compagna Lidi Scranno, Ministro Pinotti, che nel febbraio scorso, mettendosi l'elmetto, ha detto pronti ad un intervento militare in Libia con 5.000 uomini. A nome di chi parlava il Ministro Pinotti? Del popolo italiano o di qualche lobby degli armamenti? A nome di chi parlava, Ministro? Per cui mettetevi d'accordo, anche perché il dramma che quando si tratta di guerra, la prima vittima è la verità e poi il trionfo dell'ipocrisia. Io, Ministro, leggo due dichiarazioni. All'inizio del suo insediamento all'Eliseo Sarkozy, 2007, riceve Gheddafi a Parigi e dichiara «Ricevo un capo di Stato che ha rinunciato all'arma nucleare e al terrorismo e che ha imboccato la strada della rispettabilità». Nel 2009 Hillary Clinton si candida ora per diventare Presidente degli Stati Uniti d'America. A Washington incontra Gheddafi, figlio, e dice «Sono molto lieta di dare il benvenuto qui al Dipartimento di Stato al signor Gheddafi. Apprezziamo profondamente il rapporto tra Stati Uniti e Libia e amplieremo la nostra cooperazione». Poi che cosa è successo? Perché non dobbiamo parlare, perché qua non ve lo potete cavare voi che siete responsabili di quel fracasso, di quell'intervento armato che ha destituito Gheddafi violentamente e Gheddafi non era un amico nostro, un amico vostro. Loro gli baciavano le mani, salvo poi trasformarsi in aguzzini di Gheddafi, perché di questo si è trattato. E voi avete come sempre tramato nell'ombra, seguendo gli interessi petroliferici dell'Italia. E oggi voi, che avete causato il disastro libico, siete gli stessi che ci venite a dire come uscirne. E ci dovremmo fidare di voi, Ministro Gentiloni. Che cosa è successo? È successo che la Francia, che non poteva tollerare che soltanto l'Italia facesse affari con il petrolio e sul petrolio libico assieme a Gheddafi, ha spinto affinché vi facessimo un intervento armato. Gli Stati Uniti li sono andati dietro. Berlusconi, che non era d'accordo, si è piegato. Tra l'altro, sì, voi vi siete piegati perché dite che è stato napolitano ad insistere nel volere quell'intervento armato. Ed è vero. Voi siete gli stessi che dite che Berlusconi è stato destituito di fatto da un colpo di Stato. Anche cose vere, BCE, spread di Napolitano. Allora, perché diavolo avete rivotato a Napolitano? Se Napolitano ha fatto tutto questo. Io questa domanda non ho mai avuto risposta da voi. Comunque, di fatto, Napolitano, l'ex Presidente Boldrini, spinse per quell'intervento. Ci siamo comportati da soliti scendiletto degli interessi francesi e anche americani, ma soprattutto francesi, e abbiamo di fatto reso la Libia un Paese in guerra civile vergognosa. Di fatto l'abbiamo destabilizzato. Di fatto abbiamo prodotto noi quest'aumento dei flussi migratori che poi arrivano qua e oggi ci arrivano anche dei terroristi attraverso i flussi migratori, purtroppo è vero. E, ripeto, è oggi voi che avete causato tutto questo venite qui a dirci come uscirne. Noi non possiamo accettare. Questo è inaccettabile. Come è inaccettabile, il Ministro Gentiloni, il livello di scendiletto, di sudditanzia che ha raggiunto il Governo e lo Stato italiano nei confronti di tutti. Ma è normale. Se il Presidente del Consiglio, il Presidente Bodrini, non eletto da nessuno e grazie a un premio di maggioranza di questa Camera abusiva e incostituzionale, anziché occuparsi dei cittadini e avere degli incontri di politica estera interessanti, va a fare i summit, gli incontri bilaterali con Barbara D'Urso nell'importante palazzo istituzionale, negli incontri domenicali di Canale 5. Ma che cosa possiamo pretendere che ci possano trattare all'estero in maniera seria? E quindi non è un caso che ad oggi l'India ha di fatto imprigionato due uomini, uno e qui due nostri soldati, che in Egitto sia stato torturato e ammazzato un giovane italiano e che in Libia non si sa come, non si sa ancora cosa, perché la verità qua non la sappiamo mai, qua la verità non si sa mai, sono morti due connazionali. Un Paese sovrano, Ministro Gentiloni, dice la verità anche se sono verità scomode, non è che pensa di nascondere sott'acqua, sotto il tappeto, la polvere, provando come sempre a dare delle menzogne comode come se fosse metadone che voi date ad un'opinione pubblica di fatto dormiente, anestetizzata, che si abitua a tutto, che accetta, ripeto, che coloro che sono i responsabili del disastro libico oggi siano gli stessi che vengono qui a dirci come poterne uscire. Sbaglio o no? È così e lo sapete tutti quanti. Ora avete un silenzio di persone che sanno che è questa la verità, che avete voi commesso degli errori, voi commesso degli errori e adesso aspettate che gli stessi che hanno commesso gli errori diano soluzioni. Ministro Gentiloni, qui, qui, nei talk show ci va dalla De Filippi, ci va qualcun altro, ci andate voi. Deputato, ci rivolga a me. Ministro Gentiloni, non si deve andare in guerra in Libia, perché se si va in guerra in Libia l'unico risultato che si ottiene è ricompattare frange terroristiche, tribù, contro tribù, tutti contro l'Italia che già ha tradito una volta e il secondo tradimento non verrebbe mai perdonato, per cui se volete un altro Vietnam andate in Libia, la responsabilità sarà soltanto nostra, altrimenti non si va in guerra in Libia, ancora di più se non c'è un governo di unità nazionale. Poi un'altra cosa che dovete fare, è chiaro che Al-Sissi sta facendo un doppio gioco in qualche modo, voi dovete pretendere che anche l'Egitto faccia la sua parte e lo dovete pretendere chiedendo ai nostri partner, ai nostri paesi alleati, di fare pressioni sull'Egitto affinché si arrivi ad un governo di unità nazionale in Libia, utilizzando le carte che abbiamo, o ci date una mano o torniamo dall'Afghanistan domani mattina, tra l'altro la guerra in Afghanistan è una guerra che non abbiamo mai voluto, ma abbiamo queste armi, tra virgolette, diplomatiche, diplomatiche da utilizzare, utilizziamo, altrimenti facciamo la figura, gentiloni, io loro le dico il massimo rispetto di venire qui, di non dire nulla, di non prendersi neanche un applauso dal proprio partito di riferimento perché si dicono parole vuote e di fatto forse nell'ombra si sta provando a tramare appunto un intervento armato, no perché l'avete fatto, perché in questo Parlamento, anche per essere sudditi degli Stati Uniti d'America, è stata teorizzata e avvallato il concetto di guerra preventiva, che è una schifezza internazionale la guerra preventiva e che ha causato i danni in Afghanistan, in Libia, in Iraq e dovunque. Oggi voi passate dal concetto di guerra preventiva alla guerra all'insaputa del popolo italiano, tutto all'insaputa, e non ci fidiamo di alcune parole del Presidente del Consiglio che ha sempre smentito se stesso, non possiamo neanche fidarci delle vostre parole, ci fidiamo però quantomeno del popolo italiano che è più sveglio di voi e che sa che questa guerra sarebbe l'ennesima guerra infame e che questa guerra che potrebbe portare a un nuovo Vietnam non la vuole, il popolo italiano non vuole questa guerra. Ministro, poi io ricordo che voi vi siete vantati dell'istituzione del gruppo di lavoro sul contrasto del finanziamento all'ISI, si ricorda marzo scorso 26 Paesi che si riuniscono e che parlano appunto di come contrastare il finanziamento alla GIAD. Ora, che fine ha fatto? Ci può dare un rapporto, un resoconto, il frutto del vostro lavoro? Perché l'Italia ha capitanato questo gruppo o no? Solo che in questo gruppo c'erano Stati Uniti, Arabia Sud e altri Paesi. Forse non ci date la relazione perché vi siete resi conto che all'interno di questo gruppo di lavoro per contrastare il finanziamento all'ISI ci sono quegli stessi Paesi che finanziano l'ISI, Ministro Gentiloni. Ma è accettabile nel 2016 sapere che il Governo degli Stati Uniti d'America controlla di fatto il Presidente Berlusconi? Figuratevi se noi difendiamo il Presidente Berlusconi. Quello era un attacco alla sovranità nazionale. Quindi conosciamo perfettamente che l'intelligence conoscono addirittura le telefonate dei principali collaboratori berlusconi e non sappiamo oggi come arrivano armi, finanziamenti, appoggi, sostegni al terrorismo internazionale. È accettabile? Per me è un insulto alla nostra intelligenza, di tutti. Si sa perfettamente chi li finanzia, come li finanziano, quali sono le industrie belliche che gli danno una mano? Chi gli dà i soldi ma non si può intervenire perché avete le mani legate, perché vi hanno messo lì gli stessi poteri forti che controllano questi traffici internazionali? Si chiama conflitto di interessi. Siete regolarmente in conflitto di interessi e non fate mai gli interessi del popolo italiano. Concludo dicendo che, ripeto, questa dovrebbe tornare a essere quantomeno una Repubblica fondata non sulla menzogna costante, utilizzata come droga verso i cittadini italiani che si bevono ancora molti, sempre di meno le vostre menzogne. Io le vorrei dire, Ministro Gentiloni, che è stato detto che il Presidente Renzi sembra una sorta di badoglio al contrario. Quello del 1943 diceva che la guerra proseguiva, però di fatto trattava la pace. Quello di oggi dice, in questi luoghi istituzionali, Canale 5, che non si va in guerra assolutamente, ma di fatto si comporta come qualcuno che sta preparandosi alla guerra. Forse perché le pressioni da parte della Francia, tra l'altro per tutelare gli interessi loro, contemperano i nostri e voi ve li siete fatti scippare dalla Francia, è molto forte. Ecco, Ministro Gentiloni, se la prima vittima della guerra è la verità, la vagonata di menzogne che vengono dette quotidianamente sulla questione libica ci dimostrano che siamo in guerra e il Movimento 5 Stelle si opporrà a questa guerra in ogni modo. Grazie.